Buonasera, ben trovati all'appuntamento con Fuori dall'Aula, la politica locale a confronto. Torniamo finalmente ad avere degli ospiti in carne e ossa in studio ed è sempre un piacere tornare alla presenza. Parliamo oggi del Parco del Mare, cerchiamo di fare il punto della situazione sugli interventi che riguardano il nuovo lungomare, il nuovo waterfront come si dice in questo periodo a Riminese. Lo facciamo con la consigliere del Partito Democratico Giulia Corazzi, buonasera. Buonasera a tutti. E con Matteo Zoccarato della Lega. Buonasera, buonasera a tutti, grazie. Due graditi ritorni, sono tra gli aficionados della trasmissione. Tra l'altro questo tema è stato affrontato anche con un'interrogazione la scorsa settimana fatta dal consigliere Rufo Spina di Fratelli d'Italia all'assessore Montini. Allora per introdurre abbiamo preso un piccolo stato di questa interrogazione con la voce della Montini e poi la dichiarazione di Rufo Spina, così entriamo subito in clima. L'amministrazione sta riqualificando il lungomare in una maniera epocale che rimarrà alla storia di questa città e con lavori che si manterranno per i prossimi decenni. E stanno riqualificando il nostro profilo costiero in un modo assolutamente moderno, portando più pedonalità, portando più ciclabilità, portando più verde e portando quindi dei benefici sia per i cittadini sia per i turisti che saranno naturalmente sotto gli occhi di tutti, ancorché servono dei lavori per realizzare queste opere. I lavori termineranno da cronoprogramma perché al momento sullo Spadazzi possiamo certamente dire che la ditta Mattei sta mantenendo i tempi perfettamente. E quindi i lavori termineranno a fine giugno. A fine giugno ci sarà un lungomare completamente riqualificato. Ecco io posso dire che il completamento di quel cantiere, la data di fine giugno è una balla e mi fa piacere che sia stato detto perché si incaricherà di essere smentito l'assessore tutta la giunta perché quel cantiere non finirà a fine giugno, io qui lo dico, quel cantiere finirà se va bene a fine agosto e perderemo tutta la stagione. Consigliere Spina si era un po' accalorato in questa dichiarazione, si parlava in questo caso nello specifico della zona di Miramare, del lungomare Spadazzi, l'assessore ha dato delle tempistiche, ma qual è il punto della situazione consigliera? Allora, prima di tutto sono sempre molto contenta di venire qui a parlare soprattutto di un tema come quello dei lungomari perché credo che in questo momento così difficile, dove abbiamo chiesto un ulteriore sacrificio ai nostri cittadini, l'anno scorso in particolare a nord, quest'anno anche nella zona sud, però credo che questi interventi siano degli interventi di una lungimiranza unica, dove in un momento così difficile Rimini si riaprirà un po' al mondo e io sono convinta che pian piano tutti ci riapriremo al mondo, speriamo, però ecco Rimini si riaprirà al turismo con un'immagine del tutto nuova e quindi questo è sicuramente qualcosa di estremamente positivo e di cui tutti dobbiamo essere veramente fieri. In particolare sulle tempistiche dei cantieri noi non abbiamo rilevanze che ci facciano dire che ci saranno ritardi particolari, a me quando ascolto certi interventi del consigliere Spina mi viene sempre un po' da sorridere, oltre alla grande dote di predizione che anch'io vorrei avere, oltre a quello sembra che quando parliamo di questo tipo di lavori sembra che è come se stessimo ristrutturando il nostro studio a casa, invece sono lavori complessi, sono lavori difficili, sono lavori che hanno richiesto un grande sforzo sia di progettazione ma proprio anche poi di messa in pratica e quindi è chiaro che tutto può succedere, ma per ora non c'è niente che ci faccia dire che le tempistiche non saranno rispettate, per il tratto Spadazzi di Miramare e anche per i tratti diciamo nella zona di Marina Centro. Zuccarato è più in linea immagino con il collega Spina? Io per rimanere sull'attualità, perché il discorso del rifacimento del lungomare penso che abbia una storia ormai quasi decennale, quindi per il momento ci soffermiamo sui cantieri attuali e i cantieri attuali dimostrano una mancanza di vision, una mancanza di organizzazione e una mancanza di sensibilità da parte di questa amministrazione, perché io sono convinto che se chi attualmente governa il comune, come diceva la cara collega, ristrutturasse lo studio di casa propria, ci avrebbe applicato molta più attenzione e molta più sensibilità. Anch'io sono convinto, come con il consigliere Spina, che il cronoprogramma su Miramare non verrà rispettato. Sulla zona di Marina Centro è un disastro acclamato, i ritardi sono strutturali, proprio per questo io ho convocato la mia commissione, la commissione Controllo e Garanzia, per venerdì prossimo, dove chiamerò a raccontarci, né per filo e per segno, senza troppi giri di parole, ma con dati e numeri corretti, tutti i dirigenti, l'assessore, e se possibile, anche se ormai mi sono messo cuore in pazza perché non viene mai, il signor Sindaco, perché noi, ma soprattutto chi vive e chi lavora sul lungomare, attende risposte certe. A Marina Centro, da Via Tripoli in giù, c'è un cantiere infinito che va avanti da mesi con solo tre operai che ci lavorano da mesi. I lavori dovevano terminare per fine mese, probabilmente adesso si arriverà a fine giugno con i locali, i ristoranti che hanno le balaustre davanti alla porta, cosa che era già capitata sul lungomare nord l'anno scorso, quindi qui c'è proprio una mancanza di organizzazione. Adesso sulla zona nord ci sono cantieri che fondamentalmente bloccano tutti gli accessi al mare, da Via Pallotta a Via Polazzi, da tutti i vari sottopassi, dal soprapasso di Via Grazia e Verenini, tutti insieme, tutti insieme, ma ci si vorrà un attimino organizzare, farne uno alla volta? Secondo me, ragazzi, questa è proprio una mancanza di organizzazione. Se uno si mette a ristrutturare lo studio di casa propria, lo fa con maggior minuzia e sensibilità, ma visto che qua si parla della città di tutti e dei soldi degli altri, la gestiamo un po' come capita e poi si vedrà. È stata un po' chiamata in causa anche su una zona molto cara, quella di Viserba, quindi non so se vuole cominciare partendo dalle ultime dichiarazioni del consigliere Zoccarato. Io avevo dato un po' di vantaggio sulla zona sud e lui mi era digettato in casa dopo un po' fatica a prenderla con filosofia. Mi piace vincere con difficoltà. Proprio perché l'esempio sullo studio era calzante, proprio perché non è lo studio di casa nostra non vuol dire che c'è meno minuzia, assolutamente, ma vuol dire che sono dei lavori totalmente diversi. Cioè qui dopo anni, anni, stiamo veramente ricostruendo la città, stiamo ricostruendo dei lungomari, stiamo rigenerando dei lungomari, stiamo rigenerando degli spazi dove c'era del degrado, dove c'era un'immagine che non era quella che una città come Rimini oggi può offrire al mondo, soprattutto in un momento come questo. E se tutta questa attività non è lungimirante, io ho avuto il consigliere a leggere anche il PNRR che è uscito in queste settimane, che guarda caso tra i punti cardine a tutto quello che noi stiamo già portando avanti da tempo, di generazione urbana, i temi della sostenibilità, di aprire gli spazi e rendere gli spazi vivibili, aperti per le persone. Detto questo, la zona sud e può insegnarlo la zona nord, può insegnarlo la zona nord, i lavori stanno procedendo, sono lavori complessi, è un progetto complesso che però nelle parti che sono già state terminate ha dimostrato veramente quello a cui avremo di fronte, qualcosa di totalmente rinnovato e qualcosa di totalmente bellissimo e mi sento di dirlo a livello anche estetico e qualcosa che aumenterà e rafforzerà l'offerta turistica. Perché insegna la zona nord? L'anno scorso forse nessuno più di me e delle persone che lavorano e vivono nella zona nord hanno visto la difficoltà che c'è e c'è una difficoltà oggettiva di convivere con dei cantieri. Ed è vero, chiusi quei cantieri che ricordo che a nord si sono chiusi e indicativamente eravamo fine luglio prima settimana di agosto, quindi non è che... Piena estate. Piena estate, cioè la soddisfazione e anche l'orgoglio e il subito ritorno che c'è stato a livello di persone, a livello anche di presenze su quel territorio è stato veramente qualcosa che tutti, tutti hanno dato atto di quello che è successo. Quindi è chiaro che le difficoltà ci sono, è chiaro che i disagi ci sono e che i disagi ci saranno di fronte a un'opera così grande, però bisogna anche guardare veramente l'importanza di quello che stiamo facendo, che non vuol dire sminuire le fatiche di chi è lì, tanto che noi siamo sempre a disposizione, abbiamo girato i territori, la zona nord, ripeto, insegna, perché la zona nord sono stati fatti incontri fisso, costantemente, con le attività, con gli imprenditori, con gli albergatori, i bagnini, continuamente, costantemente e idem, continueremo a farli e anche tra poco ne avremo uno in programma con la zona sud, a Viserba. È difficile, è difficile, ma questo non vuol dire che non c'è organizzazione, non c'è pianificazione, perché portare avanti un cantiere alla volta, come tante volte si è detto, tante volte, significava tenere uno territorio completamente sottostaggio per anni. Abbiamo fatto una scelta radicale, è vero, i cittadini ci giudicheranno anche su questo, abbiamo scelto in poco tempo, però, di offrire un territorio completamente rinnovato alle persone. I cittadini di Viserba, di Viserbella, di Torre Pedrera hanno sofferto lo scorso anno, alcuni stanno soffrendo quest'anno, perché ancora alcuni cantieri sono in opera, ma poi il risultato e quello che si è aperto agli occhi di tutti, io invito veramente ad andare a vedere Torre Pedrera, che è qualcosa di irriconoscibile, quello è il più grande dono che noi abbiamo in questo momento così difficile, in questo momento così difficile dove tutto si giocherà su quello, soprattutto il richiamo turistico che dovremo avere dopo questa ripresa. Speriamo. Zoccarato? Poi ci sono anche alcune domande che ci arrivano da casa. Bene, le ascolteremo ben volentieri. nessuno mette in dubbio l'importanza di ciò che è stato fatto e nell'importanza degli attuali cantieri ancora in essere. Io contesto concretamente il fatto, adesso tornando sulla zona nord, la decisione di aprire tutti i cantieri contemporaneamente nell'accesso a mare, perché crea delle difficoltà importanti a ridosso della stagione, probabilmente e anzi quasi sicuramente continueranno a stagione inoltrata e questo si va a sommare al problema fondamentale di tutto poi il progetto del Parco del Mare che io non voglio più definire Parco del Mare perché il Parco del Mare era quello che vedevamo nel cartonato in Piazza Cavour dieci anni fa, sappiamo benissimo che non sarà più quello, quindi del rifacimento di tutto il lungomare, ovvero la piaga dei parcheggi. è proprio una delle domande che ci è arrivata da casa. Ma certo, ma soprattutto nella zona nord, già adesso con tutti i cantieri sarà un disastro, ma questi cantieri non produrranno nuovi posti auto nel bilancio totale, probabilmente ne porteranno via ulteriori, quindi questa è una piaga che però non si concentra solo sulla zona nord, ma in realtà su tutto il lungomare e ancora di queste, di soluzioni su questo tema non ne abbiamo sentite, o meglio, a parole le abbiamo sentite, ma a me sembra un pochettino troppo facile, oggi dedicarsi in questi cinque anni alla bellezza, all'immagine, eccetera, eccetera, ma poi dopo questa immagine deve anche portare concretezza, deve portare servizi, deve portare anche un benessere a chi viene in vacanza, tanto in macchina, che vi piaccia o no, non potete obbligarli a venire da Bologna, da Bilano col monopattino elettrico e soprattutto di chi ci vive, d'accordo, soprattutto di chi ci vive e lasciare l'onere, perché sarà un onere andare a creare, a cercare nuove aree di parcheggio oggi su tutto il lungomare, dopo tutto quello che è stato fatto alla prossima amministrazione, quindi ci penserà chi verrà, secondo me è qualcosa di una scorrettezza inaudita, anche perché poi dopo chi dovrà metterci mano dovrà trovare terreni, dovrà riandare a bucare ulteriormente zone dove già in questi anni, in questi cantieri di buchi ne sono stati fatti 6, 7, 8 volte sempre nello stesso posto e anche questo dopo lo chiariremo in commissione, d'accordo, quindi è proprio per questo che io sottoscrivo la mancanza di organizzazione, la mancanza di vision, la fretta di arrivare alle elezioni di ottobre con la medaglietta al petto e questo è inaccettabile quando si parla di milioni, milioni, centinaia di milioni di euro delle tasche dei nostri cittadini. Parcheggi, allora questo tema, al di là poi delle medagliette di cui parlava Zuccaro. No, che fosse male soltanto quella del lungomare la medaglietta potrei anche passarci sopra, ma per fortuna ne abbiamo accumulate tanti in questi anni, quindi quella dei lungomari che siano finiti o no ce la possiamo anche risparmiare, però vabbè. Io gradirei gradirei tanta onestà quando si parla di parcheggi, tanta onestà perché un consigliere comunale che ha anche un dovere non soltanto di fare a volte sterili, polemiche, ma anche poi di educare e anche dare quel senso civico che dobbiamo essere noi i primi a trasmettere. Io vorrei e gradirei veramente che quando si parla di parcheggi prima di tutto si parlasse anche di cambio di abitudini, di un anche un imparare a vivere gli spazi e la città in un modo diverso da quello a cui siamo sempre stati abituati che questo non vuol dire in innegare che c'è un problema di parcheggi, vuol dire semplicemente con senso civico far capire alle persone che gli spazi e la città soprattutto Rimini oggi non è più vivibile come Rimini di tre anni fa. Questo vale per i cittadini di Rimini Nord che l'hanno capito e questo vale per i cittadini di Rimini Sud e di tutto il centro storico. Questo non vuol dire che non ci sia il tema dei parcheggi perché il tema dei parcheggi c'è e rimane ma io mi aspetto da chi fa amministrazione pubblica che vengano mandati anche dei messaggi di questo tipo cioè i parcheggi non esistono più i parcheggi che lasci la macchina 50 metri 6 a piedi non esiste nessuna parte del mondo a meno che non andiamo in una frazione sperduta di non so quale paese qua bisogna parlare di un cambio di abitudini che forse da noi si è atteso fin troppo e bisogna parlare vero di un'organizzazione perché questo è vero ma che organizzazione non vuol dire avere dei parcheggi ripeto anche che siano 100, 200, 300 a 50 metri dal mare o dall'hotel significa riorganizzarsi con gli spazi che la città ha a disposizione ed è questo che stiamo facendo questo cosa significa significa che partiamo da nord cioè la zona nord sono stati fatti nella parte di assestamento quindi parte monte dato a ripederare rinforzati i parcheggi e saranno fatti anche lì dei rinforzi nuovi dal foglino a tutto il tema del lavatoio parcheggi che ricordo non c'erano in quelle dimensioni fino a poco tempo fa la zona che forse soffre un pochino di più è quella di Viserba ma io ricordo che Viserba ha una possibilità gigante che quest'estate cercheremo di mettere in atto e poi varrà anche per le altre zone della città che è quella per esempio dei parcheggi scambiatori cioè noi abbiamo parcheggi enormi enormi alla fiera che sono completamente vuoti l'estate completamente e non solo la fiera tutta la zona nord della zona monte anzi di Viserba ha dei poli dei pressi dove si può parcheggiare che non sono a 50 metri sicuramente dall'hotel o dalla spiaggia ma che con un'organizzazione e anche una diffusione di un cambio di mentalità possono tranquillamente essere efficaci basta trovare il modo di collegarli e su questo ci stiamo lavorando ma oltre a questo bisogna mandare il messaggio corretto che non ci vogliono i parcheggi a ridosso dell'albergo del bagno del ristorante ci vogliono i servizi che permettono a tutti di rendere accessibili gli spazi che andiamo a vivere andiamo ad abitare qualcuno da casa ci parla dei parcheggi interrati stile Riccione per esempio in piazza Fellini ci sarà un parcheggio interrato che conterà sui 400 porti si sta procedendo sulla pianificazione si troveranno le risorse per farlo perché non è che siamo così folli lo ripeto anche il consigliere Zoccarato di dire che i parcheggi non servono i parcheggi servono e ne serviranno sempre di più non era la prima cosa da fare non era la prima cosa da fare perché per la città che avevamo prima i parcheggi sono più che sufficienti il centro storico che puntualmente ci si lamenta e sempre c'è questo tema tra la minoranza che mancano i parcheggi io il centro storico venendo da Viserba quando ero un pochino più piccolina giravo di meno adesso mi tocca anche per forza far sempre Viserba centro storico spesso lo faccio in macchina i parcheggi ci sono il parcheggio Italo Flori è costantemente vuoto il parcheggio sotto le mura i parcheggi nella zona proprio del centro c'è un forfettario costa tra i 5 euro e 2,50 euro un parcheggio forfettario che dura un giorno ci sono i parcheggi dello Scarpetti che verrà ampliato c'è tutto Metro Park adesso c'è anche il tema della stazione che verrà fatto il sottopasso e quindi sarà anche affruibile quel parcheggio che sarà direttamente collegato al mare è un cambio d'abitudini è un cambio di impostazione per come siamo abituati sentiamo zoccarato su questo tema allora io auguro alla collega Corazzi la stessa gioia io ho una bambina di 5 anni mi auguro presto di poter allargarla questa famiglia nella mia condizione senza macchina non ti puoi muovere non sono un pigrone che vuole fare vuole parcheggiare a 50 metri dalla spiaggia o a 50 metri dal bar dove vado a bermi lo spritz alle 6 non ho neanche il tempo di andare a bere lo spritz alle 6 ma come me tante persone anziane ma come me tante persone che magari lavorano e quindi alle zone interessate non accedono solamente per farsi una passeggiata ma accedono perché hanno bisogno di andarci anche per questioni lavorative quindi qui non si tratta di un cambio di abitudini qui si cambia proprio di andare a snaturare tutto il modello di città perché allora diciamo a tutte le parrucchiere di Torre Pedrera tutti i medici di Torre Pedrera le banche di Torre Pedrera di Viserba eccetera eccetera di spostarvi tutti a Corpolò perché Gnassi e la sua amministrazione vuole cambiare le vostre abitudini quindi dicono che dovete parcheggiare in fiera per andare al mare a Viserba e prendere magari non lo so cosa ci sarà una piccola corrierina non lo so probabilmente faremo il TRC ha già il TRC bisogna c'è il TRC c'è il TRC quindi dovete parcheggiare in fiera andare a prendere il TRC fino a Viserba e poi dopo potete scendere per andare dal geometra o dalla dottoressa o dal dentista o dove dovete andare d'accordo no qui si tratta di sostenibilità della vita qui non può essere un sindaco di una città che cerca di cambiare le abitudini che non sono abitudini sono necessità sono necessità d'accordo quindi se ci vuole fare un grande passo verso questo tipo di direzione ecologica green eccetera non può essere un sindaco che lo impone ai propri cittadini ma deve essere uno stato che fa un percorso comune a livello nazionale con i sindaci che gli vanno dietro perché ad oggi noi ci ritroviamo con una viabilità totalmente disastrata ma qui ci impongono il cambio di abitudine e noi non abbiamo gli elementi per farlo anche perché non ci sono i servizi per farlo si parlava di parcheggi sotterranei ma quelli erano la prima cosa che sono da fare io ricordo che l'anno scorso avevo una cena avevo una cena l'anno scorso quindi stagione estremamente particolare che per fortuna forse anche grazie al lockdown è andata relativamente bene avevo una cena a Marina Centro in un ristorante di Marina Centro la sera d'accordo ho dovuto parcheggiare alla fontana dei 4 cavalli dopo aver girato mezz'ora mezz'ora quindi o se la soluzione era parcheggiare la Gaiofana e prendere il 3 per arrivare in stazione poi dopo affittare un monopattino elettrico per arrivare al ristorante cioè secondo me ragazzi c'è questo cambio di abitudini ve le tenete ve le tenete un po' eccessivo dice non scherziamo dai non scherziamo a parte che io pagherei per vedere il consigliere zoccarato che va in monopattino veramente mi spianto come il tuo collega pagherei proprio il biglietto per vederlo potete fare delle gare all'interno del consiglio comunale ah io sono diventata bravissima no però cioè quando dico che ci vuole senso civico cioè questo perché il cambio di abitudini sta anche nell'ammettere nell'ammettere che prima di tutto purtroppo e anche se al nostro sindaco piace avere un sacco di diciamo meriti questo purtroppo non è il suo cioè non è che il cambio di abitudini lo impone il sindaco cioè lo impone il mondo che sta andando avanti e io purtroppo penso che la mia generazione su questo veramente debba fare una grande fatica un grande sforzo per far capire passare dei messaggi che forse non è così scontato che passino cioè il tutto il tema della sostenibilità della salvaguardia ambientale cioè non è un'imposizione del sindaco Gnassi è un'imposizione che tutti noi ci dobbiamo andare per garantire il nostro futuro e qui vengo alle abitudini se tutti avessimo bene in mente quello che è necessario fare e quello che è necessario portare avanti per garantire la salvaguardia del nostro territorio quindi anche in tema di mobilità di spostamenti e di abitudini non ci sarebbe bisogno che persone anziane persone che lavorano persone che hanno i figli debbano rinunciare al parcheggio di comodità vicino perché magari se ci fosse un pochino più di senso civico di consapevolezza e questo spetta anche chi fa il nostro lavoro darla alle persone non ci sarebbe bisogno che nessuno nessuno rinuncia al proprio parcheggio né la parrucchiera di Torre Pedrera né l'anziano che vuole andare sul lungomare sul lungomare nord abbiamo fatto ci sono dei parcheggi ci sono dei posteggi ogni mi sembra 100 metri 3-4 posteggi sul lungomare sul lungomare per chi si deve fermare a fare un acquisto al volo per chi ha bisogno di scendere ed è anziano non può arrivare chi ha i bambini piccoli ha bisogno di un posteggio d'emergenza io voglio vedere voglio vedere se quei posti che sono posti fatti per chi ha realmente bisogno saranno sempre usati da chi realmente ha bisogno che non vuol dire parcheggiare a 800 chilometri da dove si deve arrivare vuol dire avere rispetto e coscienza che se chi se lo può permettere comincia a non parcheggiare a 50 metri ma un pelino più lontano chi non può parcheggiare lì vicino perché avrà il posto libero questo è un esempio di educazione civica è un esempio che noi tutti dobbiamo trasmettere perché poi si fa presto a parlare di parcheggi quando il parcheggio delle Padane è costantemente vuoto il Flori è costantemente vuoto e guarda caso c'è anche gli stessi parcheggi a Marina Centro dove è vero c'è una difficoltà oggettiva spesso sono vuoti è una questione di educazione civica che non impone il sindaco Gnassi impone il mondo in cui stiamo andando la direzione che tutti noi dovremmo andare a prendere e questo è chiaro è chiaro anche rispetto a una città come Rimini che è una città turistica che è turistica per lo più in 4-5 mesi all'anno io spero che sia turistica per tutto l'anno che le nuove aperture dei processi culturali portino gente tutto l'anno ma in questa fascia di tempo cioè io veramente faccio fatica a credere che oltre a quei 5 mesi ci sia una difficoltà un'emergenza per forza conclamata e sempre di parcheggio cominciamo a parlare di come si deve vivere in modo corretto la città l'ambiente e il nostro territorio cominciamo a progettare dei modi per collegarci perché ci sono in modo rapido e in modo veloce succede in tutto il mondo succede in tutta Europa in tutte le grandi città quando si va a Bologna quando si va a Firenze quando si va da qualsiasi altra parte a Ravenna non esiste parcheggiare sono tutte città dove la ZDL dove è tutto tutto chiuso tutto chiuso se lo fanno gli altri non capisco perché Rimini invece deve valere la regola che si parcheggia a 50 metri Zoccarato per chiudere la questione parcheggi poi magari torniamo ad affrontare il tema più specifico del Parco del Mare vuole aggiungere qualcosa che evidentemente io assieme a tanti altri riminesi dovremmo studiarsi meglio Google Maps perché evidentemente non sappiamo non conosciamo la nostra città non sappiamo dove andare peraltro a breve lo Scarpetti appunto chiuderà per andare a costruire il multipiano già abbiamo ulteriormente eliminato anche i parcheggi sui bastioni le padane sono sempre a disposizione le padane saranno sempre vuote io oggi ho parcheggiato metro park lì ce ne sono a bizzeppe è stra pieno di parcheggi purtroppo a noi piace parcheggiare sotto l'arco d'Augusto non ci piace girare quindi non siamo capaci noi a parcheggiare cos'altro c'è da aggiungere abbiamo noi i cartoncini sugli occhi evidentemente si chiama senso civico evoluzione tornando al tema lungomare noi abbiamo parlato fino adesso dei tratti 1 e 8 che sono quelli su cui i lavori sono in corso già insomma con i primi risultati dello scorso anno e poi l'annunciata chiusura del cantiere per la fine di giugno primi di luglio per quanto riguarda gli altri tratti ci sono delle novità? allora sì ci sono delle novità ci sono nel senso che a dicembre è stato fatto un bando dal comune che assolutamente non sta diciamo chiudendo i battenti al contrario di quello che si pensa per lasciare tutto a chi verrà dopo c'è una pianificazione continua e un impegno continuo per far sì che chi arriverà dopo abbia tutti gli strumenti per continuare una progettazione della città in quest'ottica a dicembre abbiamo fatto un bando che abbiamo vinto da circa un milione di euro che ci ha garantito la progettazione definitiva ed esecutiva esecutiva e definitiva di tutti i restanti tratti del lungomare della zona sud questo significa che c'è una progettazione che sta andando avanti e una ricerca delle risorse che è qualcosa di concreto quindi non è che c'è una volontà di lasciare il lungomare a metà o di abbandonare tutto a chi verrà dopo anzi c'è un lavoro che sta continuando una ricerca di risorse che si sta cercando di portare avanti sia sui parcheggi che servono ripeto sia sulle lungomare quindi è ipotizzabile che nell'autunno possano esserci dei cantieri che partono su altri tratti sì sì nell'autunno partiranno i tratti nuovi si concluderanno tutti quelli fino a Pascoli e poi con la progettazione si cercheranno le risorse per portare avanti i lavori che mancheranno Zoccarato? Noi ce lo auguriamo monitoreremo e sicuramente se andremo a governare la città monitoreremo ancora meglio di come si sta facendo adesso perché se questi cantieri che devono partire in autunno fanno la stessa fine del cantiere attuale del Viale della Regina stiamo freschi d'accordo cioè questi benedetti cantieri arrivati ad aprile maggio si devono fermare non ambisco non ambisco a pensare che ad aprile questi cantieri perché anche lo scorso anno ripeto il problema ci ha ripresentato vadano a concludersi che i lavori siano belli che fatti ma quantomeno se vedi che ad aprile non ci arrivi perché io posso anche capire che qualche difficoltà può saltare fuori non così tante come perché io ho saputo ad esempio che sul Viale della Regina c'è un problema che non è arrivato del materiale e quindi i posatori che dovevano fare il lavoro se ne sono andati d'accordo e torneranno quando potranno perché nel frattempo nel frattempo avevano altri impegni d'accordo quindi i ritardi che noi stiamo sopportando deriva anche da questo ma poi qui chi paga chi paga pagano solo i ristoratori davanti che hanno le balaustre e non possono lavorare parliamo dei Viali Interni il Viale delle Regine sì parliamo dei Viale delle Regine ovviamente in questo caso specifico però è ovvio che di queste situazioni nel corso degli anni ne abbiamo riscontrate diverse io anche per questo che convoco la Commissione Controllo e Garanzia perché non è più accettabile d'accordo si può limitare un'interrogazione e una risposta ma io oggi voglio vedere le carte voglio vedere i numeri perché si può accettare un disguido un problema ma non può essere strutturale come in questo caso contestuale perché se andate a fare una passeggiata suggerimento lo do al giornalista come lo do anche al consigliere di maggioranza sul Viale della Regina e fate due chiacchiere con tutti i commercianti con tutti i ristoratori con le persone che quei cantieri lo vivono tutti i giorni da diversi mesi vi accorgerete voi stessi che c'è qualcosa che non va quindi se anche i prossimi saranno gestiti così vuol dire che c'è un anno di penitenza per ogni quartiere di Rimini se i quartieri continueranno a desistere perché da quello che ho capito Viserba Mare non desisterà più d'ora in poi dopo non lo so cosa vuol dire? avete buttato giù il cartello non lo volete più rimontare quindi ma quella era la frazione non era neanche le frazioni non ci sono più basta non c'è più frazione siamo tutto Rimini mi perderò io un pezzo c'era stata una conferenza stampa proprio dedicata allo stato d'avanzamento dei lavori del Parco e del Mare ho il comunicato del Comune dove il sindaco diceva entro il 2021 saremo al giro di Boa con il 60-70% del Parco e del Mare Sud completato secondo lei Zoccarato è una stima fattibile? guardi lo approfondiremo sicuramente venerdì prossimo con i tecnici che in sede ufficiale pubblica non potranno mentire né potranno tirare fuori troppi giri di parole sarà nostra premura una volta che avremo tutti i dati tutti i documenti tutte le informazioni fare da garanti delle dichiarazioni del sindaco o di smentirle platealmente ad occhio l'impressione che non ce la si farà però io ripeto un lavoro se fatto bene se fatto bene ci può mettere anche più tempo l'importante è che il lungomare e il mare rimanga vivibile nel periodo della stagione è utilizzabile poi dopo se ci vogliono cinque mesi in più anche un anno in più per fare un lavoro migliore ci vogliono anche dei soldi in più se ben spesi non perché devi rifare il prato e poi dopo ricavi il prato fai i lavori sotto e compri del prato nuovo e lo rimetti sopra per centinaia di migliaia di euro è una storia bellissima è una storia bellissima però è una storia attuale è così poi dopo ricorda che delle interrogazioni in consiglio comunale il consigliere Renzi è molto affezionato a questa storia quindi io non la toglierai al consigliere Renzi assolutamente se vogliamo invece a chi ci ascolta a casa la di illustri la di illustri il tema è quello appunto del tratto che lo scorso anno era stato inaugurato anche con la parte un pochino più a monte con l'erba erba che poi è stata avitolta per effettuare nuovi interventi nei mesi passati che erano previsti quindi non è che era previsto il lavoro comunque in due stralci penso il segno che li ha previsti era già previsto comunque in due stralci perché c'è stato un innalzamento del lungomare per come era stato previsto proprio per tutto il tema anche dell'erosione delle acque è stato fatto un terrapieno che è stato ripristinato con l'erba molto semplicemente capisco che ogni scusa è buona per urlare al lavoro mal fatto in questo caso era tutto previsto e va bene però per rispondere è proprio perché è lo studio di casa tua qui purtroppo non parliamo dello studio di casa nostra ma parliamo di chilometri chilometri di lungomare dove non c'è stato un errore il progetto era già suddiviso così in due parti basta andarle a vedere le cose basta andarle a vedere molto male e ripeto sul tema dell'organizzazione dei cantieri cioè non è che noi qua vogliamo tenere sotto stagio la città oltranza durante l'estate sempre e comunque cioè i cantieri per esempio due o tre del lungomare Murri in particolare che la gara è stata giudicata adesso per un valore più o meno di 8 milioni cioè questi lavori non partiranno ovviamente in estate partiranno in autunno proprio per fare quel ragionamento di pianificazione che non è che non esiste c'è tanto che anche a Viserba si sono cercati di concludere i lavori il prima possibile a Viserba nella zona nord e sono ripresi in autunno per cercare di finirli siamo a maggio a maggio nella zona nord tutti i tratti sono completati si sta passando questa settimana alla parte degli arredi sul lungomare a parte forse l'unico tratto un pochino che è un pelo più indietro perché è un tratto un po' più complesso che è la zona da più o meno via Pallotta fino a la via 5 Marzo 25 Marzo quello un pochino più indietro ma sul resto del lungomare stanno già togliendo tutte le transenne ed è completamente furibile la dimostrazione è che c'è una pianificazione nel tratto del lungomare Mumurri per questo motivo si partirà a settembre e si sta andando anche in quell'ottica di cercare nel possibile di aiutare chi lavora e chi vive questi cantieri sapendo che però è a vantaggio di tutti che i lavori siano veloci e che siano fatti nel più breve tempo possibile Zuccarato se non per ribadire che ripeto se programmazione c'è la programmazione è stata miope perché ribadisco ribadisco nuovamente che ci saranno tante attività che quest'anno perderanno i primi di giugno probabilmente perderanno tutto il mese se non anche i primi di luglio d'accordo forse nella stagione più difficile di tutto il dopoguerra quindi io ripeto e ribadisco in linea di massima è ovvio che un cantiere bisogna chiuderlo prima possibile nel nostro contesto specifico dove lavoriamo con il turismo turisti che non puoi educare d'accordo e a cui neanche puoi chiedere pazienza d'accordo ma ti devi adattare alle loro esigenze non il contrario o non il contrario d'accordo lo puoi fare con i tuoi cittadini ma non lo puoi fare con i turisti che vengono qua e sganciano i soldi d'accordo non è accettabile è preferibile perdere sei mesi in più ma poter permettersi di offrire un servizio adeguato anche magari con un cantiere a fianco fermo d'accordo piuttosto che tenere bloccati tutti nella stagione più importante dal dopoguerra ad oggi più importante è delicata più importante è delicata abbiamo appena detto che i tratti partiranno a settembre del lungomare i muri li parlo degli attuali quelli attuali si sta facendo di tutto per chiuderli entro giugno entro giugno come era previsto e io mi chiedo se invece i turisti che si sono sempre adattati alle nostre esigenze venendo a Rimini con una città che offriva asfalto offriva dei lungomari veramente inadeguati e inaccessibili mi chiedo se allora quel tipo lì di offerta era rispettosa delle esigenze dei turisti si sta facendo un investimento enorme che andrà per il bene di tutta la nostra città e la zona nord insegna la zona nord insegna perché si sono chiusi i lavori ad agosto e il mese di agosto tutta la zona nord ha vissuto un mese veramente dignitoso in tutte le difficoltà che ci sono state quest'anno si sta sforzando a Marina Centro di chiuderli entro giugno nella zona nord sono già completati praticamente quindi va bene vedere sempre tutto male io però vorrei proprio vedere spero che non capiti mai di vedere i colleghi al governo perché sono gli stessi colleghi che adesso si lamentano sull'organigramma programma tutto quanto e sono gli stessi che ci hanno impedito nel 2018 di andare avanti con i lavori del lungomare col bando delle periferie perché l'avevano sospeso quindi pensa a quanto tempo abbiamo perso in quel periodo e chi c'era il governo il governo c'era la lega e 5 stelle c'era la lega e 5 stelle io mi ricordo giornate intere come l'avete finanziato dopo io ricordo giornate intere con una dura durissima battaglia fatta e tutti se la ricordano raccolte firme che ci hanno garantito quelle di rifinanziare il lungomare di sicuro non il vostro interesse politico perché io non ricordo nessuno di voi con che cosa avete rifinanziato il lungomare col bando che abbiamo vinto e che se non era per voi con l'aumento dell'addizionale IRPEF con l'aumento dell'addizionale IRPEF ecco qua parte la fantapolitica la fantapolitica ma stiamo schertando il mio pezzo preferito ma sono dichiarazioni ufficiali fatte in un consiglio comunale ma io te le tiro fuori tutte allora Matteo cerchiamo di essere onesti poi dopo che sia il sindaco che in un momento di adrenalina perché un bando di 18 milioni che arrivava sul territorio con finanziamenti complementari come gli oltre 5 milioni del sottopasso di Viserbo il sottopasso necessario necessario e che tutti aspettavano da anni quegli interventi erano stati messi da parte perché un governo aveva deciso in modo veramente cieco di sospendere il bando e noi abbiamo aumentato l'IRPEF in quell'occasione anche per permettere di proseguire in questa situazione e di portare avanti quei lavori e i cittadini l'hanno capito perché i lavori li avete conclusi perché non è stata riabbassata l'IRPEF di Rimini era la più bassa la più bassa che c'era in tutto il capoluogo quando le tasse vengono usate per dare dignità a un territorio e fare dei progetti quelli sono sempre usati bene potevate pensarci prima di togliere finanziamenti finanziamenti che abbiamo messo perché in quel momento in quel momento sono stati tolti e nessuno di voi è venuto con noi a protestare per quello perché io non mi ricordo nessuno di voi e tutti i cittadini di Rimini Nord hanno fatto tutte le settimane le postazioni per raccogliere le firme e quel lungomare grazie soprattutto alla tenacia delle persone che hanno sofferto per i cantieri hanno sofferto ma che sanno cosa significa quel lungomare per tutti noi lo sanno e la stessa cosa lo sanno a zona sud in tutti i disagi e per questo ci scuseremo sempre cercheremo di essere i più veloci possibili di fornire tutti i servizi ma chi lavora sa quanto significa quel lungomare per il nostro territorio ma poi quei fondi li hanno sbloccati alla fine? l'ho già detto devo ripeterlo perché dopo mi accaloro molto perché sono curioso mi accaloro molto evidentemente io in questi cinque anni ero in un'altra città a fare consiglio comunale evidentemente se ci si fosse preoccupati un pochino di più delle esigenze dei propri territori piuttosto che buttare sempre tutto in bagarre politica si sarebbe visto come quei finanziamenti erano fondamentali per il nostro territorio ma erano fondamentali per il nostro territorio ma è stato bloccato il bando periferia in tutta Italia per fare i sottopassi dalla Sicilia perché quest'estate finirà a settembre probabilmente e sono stati sbloccati dopo il sottopasso a Viserbo il sottopasso pedonale carrabile che si aspettava da anni finanziato con i soldi di RFI dopo dure battaglie che potevano essere rese del tutto vane grazie ai finanziamenti che erano stati toghi l'ultimo aspetto che volevo affrontare perché ci è stata chiesta anche da casa perché sappiamo che il lungomare il parco del mare è un progetto in parte pubblico in parte privato quindi c'è anche tutto il tema delle manifestazioni di interesse non so se ci sono state evoluzioni anche da questo punto di vista io ricordo le ultime dichiarazioni parlavano di una ventina da parte dell'assessore Frisoni sì anche quelle sono al vaglio soprattutto nei tratti nuovi che si sono aggiudicati la gara adesso ovviamente in questo momento come momento anche complicato sicuramente il pubblico deve fare di tutto per incentivare anche la collaborazione col privato e l'integrazione poi di quello che è il progetto del parco del mare con quelli che sono i privati dove ci siamo riusciti sono stati degli esempi veramente virtuosi Torre Pedrera è anche un esempio su questo in tanti aspetti sono sicura che anche nella zona sud ci saranno tante occasioni per portare avanti questo sono al vaglio le manifestazioni proprio perché si è deciso anche di partire con i lavori a settembre e non adesso quindi non c'è l'urgenza insomma no nell'immediato insomma si stanno controllando Zoccherato? non è questo momento il progetto del parco del mare era partito facendo affidamento sulle manifestazioni di interesse dei privati ma noi che sono già anni che facciamo interrogazioni commissioni su questo tema manifestazioni di interesse da parte di bagnini o da parte di alberghi da parte di locali che devono cacciare fuori centinaia di migliaia di euro ma non adesso post covid neanche prima del covid i bagnini che hanno un cappio alla gola sulla questione Bolkestein gli alberghi che aspettano ancora di capire la città dove andrà a parare in realtà il progetto delle manifestazioni di interesse era già fallito a monte prima del covid poi dopo oggi per fortuna qualche privato vuole ancora investire e ben venga che lo faccia ma abbiamo sbagliato totalmente a monte da fidarci solamente a questo tant'è che quel cartonato in piazza Cavour secondo me adesso lo utilizzano come tavolo dentro le sedi del PD mi viene da pensare non lo so che fine abbia fatto no non nelle sedi del PD sarebbe stato anche bello non so non bazzico quindi non so Corazzi vuole replicare poi siamo in chiusura ma sì ma il tema delle manifestazioni è sempre stato un argomento difficile spinoso sono stati grandissimi dibattiti anche come questo progetto fosse nato è vero con una grande compartecipazione privata io credo che però fosse anche necessario e credo che su questo il pubblico e noi come amministrazione abbiamo dato un segnale veramente importante perché piuttosto molto spesso succede il contrario che con la scusa che non ci sono i privati che investono non si fa niente in questo caso noi siamo andati avanti abbiamo creato dei processi di investimento abbiamo trovato delle risorse enorme per portare avanti dei progetti di riqualificazione grandi non è che adesso grazie al cielo che ci sono a qualche privato che investe ci sono dei privati che hanno visto la potenzialità di quello che stanno facendo e che stanno entrando a far parte di questo processo quindi non è che sono poveri sventurati sono persone che evidentemente hanno compreso io spero che saranno sempre di più che quelle tra la Bolkenstein perché anche quello è un problema che c'è ed è vero e tra tutte le difficoltà che ci sono in più in questo momento che è vero che ci sono però guarda caso tanti imprenditori stanno decidendo di aprire di investire sul lungomare di fare manifestazioni di progettazione e questo comunque vuol dire che c'è un progetto convincente i Bangla non valgano però nella statistica non li contiamo perché non è facile i Ciringuito benvengano siamo arrivati in chiusura con questo scambio finale io ringrazio il consigliere della Lega Matteo Zoccarato grazie a voi consigliere del Partito Democratico Giulia Coratti grazie a tutti torneremo a parlare di Parco del Mare in futuro con insomma quando da presumibilmente novembre perché è ora che si inserirà la nuova amministrazione ci saranno magari sempre gli stessi consiglieri ma perché no forse anche uno dei due sarà sindaco che ne sai ah beh se volete darci uno scoop io Matteo ci ritroviamo la prossima settimana con Fuori dall'Aula in questa situazione guarda potremmo anche prendere un'altra in questa situazione con Fuori dall'Aula in questa situazione Grazie a tutti.